Il video che sorprende Soleil e Marco, lui conosce papà Sorghè, il video che sorprende Uomini e donne, Soleil e Marco fanno sul serio, dopo la convivenza, carta segna conosce il papà della Sorghè. Che colpo di scena?. Soleil e Marco fanno sul serio nel vero senso della parola e ora non hanno neanche più bisogno di nascondersi. L'ex corteggiatrice e l'ex tronista di Uomini e Donne si amano e lo fanno alla luce del sole. Contro tutto e tutti, la neocoppia sta facendo parlare davvero molto di sé. In ogni caso, i diretti interessati continuano a fregarsene e ad andare avanti per la loro strada. . Sembrano essere una più cotta dell'altra. . Proprio quest'oggi, una nuova prova dimostra come la Sorghè e Cartasegna siano follemente innamorati. Lei ha portato il suo nuovo compagno a casa di suo padre. . E così, sono finalmente arrivate le presentazioni ufficiali. . . Atmosfera festosa in casa dell'ex corteggiatrice che, a cena da suo papà ha voluto portare anche Marco. Soleil documenta il tutto attraverso un Instagram Story. . A grande sorpresa, Cartasegna appare davanti la fotocamera proprio mentre la Sorghè stava facendo un video. . Le parole di lui sembrano parlare chiaro e tondo, tanto da confermare ancora una volta l'amore che è nato tra loro. . Guarda amore, ti giuro mi sento in imbarazzo e… quell'amore toglie così ogni dubbio. . I due sono felici e non hanno assolutamente timore di ciò che la gente possa dire e pensare della loro love story. . . Di fronte a questo escusivissimo video, i fan di Luca Onestini siamo certi che si scateneranno nuovamente contro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. . Soleil e Marco dopo Luca Onestini, la vita insieme. . Soleil è tornata a parlare di Luca Onestini e di ciò che è accaduto in questi ultimi mesi. . Inoltre, alcuni giorni fa, i due hanno fatto sapere per vie traverse di aver deciso di andare a convivere. . Le storie pubblicate su Instagram sia dalla sorbet che da Marco Cartasegna sembravano infatti rivelare la loro convivenza. . Insomma, ad oggi sono senza alcun dubbio una vera e propria coppia a tutti gli effetti. . . . . . . .